Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in questo nuovo video. Ebbene sì, come avete letto dal titolo, dalla copertina, ma anche da quello che ho comunicato in questi giorni nei post della community di YouTube, ma anche su Instagram, uscirà un nuovo gusto di Red Bull in Italia ragazzi, sì, a sorpresa come Summer Edition all'arrivo delle nuove stagioni estive, ebbene quest'anno ci sarà un nuovo Flavors che spopolerà e verrà commercializzato su tutti gli scaffali dei nostri supermercati. Spero questo il prima possibile, perché la bevanda in questione mi intriga alquanto. Stiamo parlando di una Summer Edition al gusto di albicocca e fragola, con un pizzico di pesca come retrogusto. Non so cosa aspettarmi e quello che è stato descritto all'interno del sito ufficiale Red Bull Italia, che di fatto noi troviamo presente l'immagine della nuova bevanda all'interno del catalogo prodotti. Questo breve video per dire solo una cosa, per annunciare l'arrivo di questa nuova Red Bull Summer Edition, al gusto di albicocca e fragola. Ditemi anche voi se questo sapore nuovo vi intriga, siete curiosi di provarlo e soprattutto ditemi se già nei vostri supermercati locali è reperibile, perché davvero muoio dalla voglia di assaggiarla, perciò non appena sarà tra le mie mani non esiterò a fare una recensione. Detto questo io concludo qui il video, mi raccomando commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao! Ciao!